Vabbè, ora basta, inizia il video Uno, due... Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, io sono Angelica e benvenuti in questo nuovo video Allora ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi aprirò un altro giveaway Perché è tantissimo tempo che non faccio un giveaway Voi potete vedere, ora sto indossando questa collana con tutti i fiori Una collana hawaiiana, che a me piace tantissimo E ora voi vi starete chiedendo, perché Angelica oggi indosso una collana in questo giveaway? Così per mostrarvela, volevo solo mostrarla, non è che la metto nel giveaway Volevo solo mostrarvela, perché ieri sono andata in un compleanno Sono andata al compleanno di una mia amica di scuola E per omaggio, che regalo, lei ci ha dato, a me e a tutte le altre, questa collana bellissima E anche una specie di cerchietto, non è proprio un cerchietto Tipo una specie di roba di genere, però da più in metà di capelli Che è veramente bellissima Se volete la fascia con i fiori, ve la mostrerò nel prossimo video Comunque, come ho detto prima, oggi sono qui per fare un giveaway E ora vi dirò tutte le regole per partecipare Allora, bisogna essere iscritti al mio canale Metter mi piace al video E commentare massimo tre volte con hashtag partecipo Che ci sarà scritto qui Allora, il giveaway parte oggi, che è 23 luglio, cioè lunedì E finisce il 23 agosto, cioè giovedì Quindi il giveaway durerà un mese Lo so che è tanto, però dovete avere pazienza E comunque, il giveaway finirà a mezzanotte Allora, finirà a mezzanotte del 23 agosto Cioè, è mezzanotte e è iniziato il 23 agosto, in questo senso E niente, ora vi mostrerò la cosa potrete vincere Allora, la prima cosa che potrete vincere sarà questa argentina bellissima Con i guffetti, c'è questo guffo gigantesco e i suoi tre figli, diciamo, non so E poi dietro c'è questo guffo e i due guffini E dentro è fatta così E l'ho presa, mi pare, dai cinesi Mi pare che sia costata un euro Non mi ricordo quanto ho pagata perché era un po' che non l'ho presa E non l'ho presa Comunque dentro è così Qua avevo già utilizzato una pagina Qui, c'è pure il segnalibro Potete vedere, ma qui nella pagina Ci sarà questo Che mia madre non vuole che lo togli Quindi lo dovrà per forza tenere Però perdonatemi Perché ho usato solo questa, eh Non l'ho utilizzato più nient'altro, meno male Almeno così rimarrà un po' no Però ci sarà questo qua, però lo stesso La seconda cosa che potrete vincere sarà questa Questa che sarebbe un Ho fatto tipo lo screen Cioè ho scanizzato Non so come si dice Aspetta qua Stavo dicendo che ho fatto lo scanner Nella, della mia cover Ed è venuta così Questa qua sarebbe la mia cover Carta, fatto con la carta diciamo Però che l'ho stampata In realtà non è colorata così Ma è un po' più chiara È venuta solo un po' col flash Ma è normale Perché quando fa la GX La stampante fa mettere la luce Quindi ecco perché è stata chiusa In realtà la mia cover non è così Vi faccio vedere com'è Questa qua sarebbe la mia cover Che ho sul telefono Questa qua è quella che ho stampata Come potete vedere È grande, uguale in pratica Però questa qua è quella mia Che ho comprato Questa qua invece è quella che ho stampato E in più Se non vi siete accorti Guardate se ho abbassato Perché se no dopo non stava in piedi Ecco perché vedete È un po' abbassata E se non vi siete accorti Qui È un po' nascosto Però qui Ho scritto in blu Ecco Qui si piega Stavo dicendo che qui Qui sotto Ho messo il mio autografo Ora si vedrà storto Mi pare Ma non lo so dopo Però questo qua è il mio autografo C'è scritto Angelica Col cuoricino E la riga sotto La terza e ultima cosa Che potrete vincere Che è fondamentale È Questo slime Questa qua è la confezione Del Mi si chiama Del gummy slime Questa qua serve la confezione Del gummy slime Ma dentro c'è lo slime Che ho fatto io Cioè il Sand slime Fatto da me Spero ti piacerà C'è scritto così Se c'è scritto Spero ti piaccia Dopo cambierò Comunque dentro c'è questo slime Che ora mi mostrerò Eccolo qui All'interno c'è lo slime Fatto con la sabbia Purtroppo Ma in realtà È molto più chiaro Però della videocamera Sembra più Scuro Però comunque Per il resto È bellissimo Questo slime Mi piace solamente tanto Ed ecco perché Volevo aggiungercelo Al giveaway Perché così Ci potrete giocare Anche voi Però Perderà Pergare un po' Di sabbia Vi lascerò un po' Di sabbia sulle mani Ma non fa niente Ovviamente Raga Gli manderò Anche la mia La letterina Questa qui Eccola Non c'è nessun numero Di telefono State tranquilli Non c'è nessun numero Qua sopra E questa qua La letterina Che leggerete O non si vedrà Niente Però la leggerete Se vincerete E niente Il video Non si concluderà qui Perché volevo Fare la Scopriamo La creazione In cola vinica Che ho fatto Per lo speciale Nei 1750 iscritti Sono passati Già tre giorni Da quando l'ho fatta E che potete vedere Si è un po' Solidificata Però ho fatto Una crosticina Un po' strana Non so se ancora Se è pronta Perché l'ho lasciata Nel frigo Il latte Non si riascerebbe Nel frigo Però non fa niente Almeno Si è un po' Solidificata Spero che non diventi Un happy face No dovrò buttarla Ma comunque Ora Iniziamo ad aprire A vedere Se è riuscito Oppure no Secondo voi Ha uscita la creazione Secondo me No Però Ho dei seri dubbi Scrittemi qua sotto In questo istante Secondo voi Se la creazione Sarà uscita Oppure no E mi raccomando Commentate con hashtag Partecipo Potete commentare Massimo tre volte Oppure Non potete partecipare Al giveaway Ma comunque Avete fatto E niente Da voi Sembra che sia riuscita Però Oggi Sai di dubbi Comunque Iniziamo a vedere Se è riuscita Oppure no Se avrete indovinato Siete stati bravissimi Se invece Non l'avete indovinato Non fa niente Sarà per la prossima volta Ma comunque Parlando O comunque Invece di perdere tempo Iniziamo a Scoprirla Allora Raga Io ho paurissima Penso che non si sia asciugata Del tutto Ho fatto anche un po' di bollicine Non so se sono fatte le bolle Ok raga La sto tirando fuori Raga Mi sono appena accorta Che la creazione Non si è asciugata Cioè Guardate Vedete Non si è ancora Asciugata Del tutto Quindi dovrò aspettare Altri giorni Mi dispiace Però Non voglio tirarla fuori Adesso Perché Dei contorni È tutta solida Ma Non è del tutto Solida Devo aspettare Altri giorni Ma comunque Niente Ok ragazzi Più o meno Sono riuscita a sistemarla E guardate Che schifo Cioè raga Non si è solidificata Per niente Mamma mia Raga Che schifo Comunque Dice la Che si sta guardando Perché mi guardi così Sto registrandolo E niente ragazzi Questo era il giveaway Di oggi Spero tanto vi sia piaciuto Comunque L'estruzione La farò Al pomeriggio Del 23 agosto Non a mezzanotte Perché sarebbe impossibile Non vedrà nessuno Il video E niente ragazzi Questo era il video giveaway Spero tanto che vi sia piaciuto A me è piaciuto tantissimo Mi raccomando Seguite le regole Cioè Essere iscritti Al mio canale Mettere mi piace Al video E commentare Massimo tre volte Con hashtag Partecipo E comunque ragazzi Ho anche una novità Da dirvi Io Sul sito Che ho anche Copiato Ho messo Un Ho creato Un sito Internet Che se volete Andrò a vedere Vi lascerò Il link Che ho solito In descrizione C'è proprio Il nome L'ho inventato Io sapete Comunque raga Andate a visitare Il mio sito Sicchia Si Ho le mani sporche Di Colla Andate a vedere Il mio sito Che si chiama www.angelica Kawai Official Punto Poi c'è il nome Del sito Punto Ito Punto Com Vabbè Vi lascerò Il nome Qua sotto In descrizione Comunque Vi ricordo Anche Di iscrivervi A tutti I miei social Troverete I nomi Qua sotto In descrizione Comunque Le regole Troverete Anche qua sotto Se vi ricordo Di mettere Oppure Troverete I nomi Tutti qua Quando ho detto Le regole Ci saranno I nomi Qua Almeno Così Senza Mettere In descrizione Non conta E niente Vi ricordo Anche Di acquistare Le mie magliette Tazze Cover Felp Eccetera Eccetera Premete Il link Sotto In descrizione Cioè Shop Punto Spreadshirt Punto It Slash Angelica Kawai Slash Che troverete Il link Qua sotto In descrizione Se volete Anche voi Questa Bellissima Collana Con i Fiori Hawaiana Troverete Anche su tutti I siti Internet Sui Tipo Su Amazon Su Ebay Dovrebbe esserci Oppure Io l'avevo vista Anche all'Eurostream In supermercati Lo troverete Questa Oppure Dai cinesi Non so Nei negozi E niente Io vi saluto Vivi tantissimo Bacione enorme E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao In realtà Il sito web Dovrò aprirlo Per lo special Di 2.000 skits Però l'ho aperto In anticipo In alte prima Però Vabbè Lo stesso Ciao Ci vediamo Al prossimo video Vivi A tutti